e benvenuti da astendore in questa nuova puntata del canale e oggi andiamo a parlare ovviamente delle realme buds t100 le nuove cuffiette bluetooth e messa nel mercato italiano da circa 3-4 mesetti 3-4 mesi sono le nuovissime ovviamente realizzate dalla realme xiaomi ovviamente parliamo un po quasi dello stesso brand quindi è la stessa azienda che li fa ovviamente queste sono brandizzate realme e non xiaomi ovviamente che cosa rappresentano queste rappresentano le normalissime realme buds hair con quella forma bombata delle classiche 3 pro con molti dettagli e molto altro questa è la confezione che ovviamente ci verrà offerta dalla dalla casa produttrice con questo stampo frontale delle cuffiette che sono in bassissimo rilievo quindi se si toccano si riesce un po a avere quel tatto molto definito della scatola e poi nei lati abbiamo ovviamente riferiti la durata della batteria che è 28 ore quindi all'incirca sopra e giù ci siamo del dynamic bass quindi la il drive incorporato quindi sarebbe la capsula incorporata all'interno del dinamica di 10 mm che non viene tanto sfruttata al massimo perché poi vi spiego bluetooth 5.3 e poi abbiamo la modalità gioco queste di qua con il prezzo che hanno modalità gioco sono micidiali e poi abbiamo ipx 5 quindi resistenti anche all'immersione dell'acqua e poi abbiamo ovviamente la l'intelligenza artificiale della della cancellazione e la soppressione del dei rumori esterni dell'ambiente questa scatolina e andiamo subito dopo la sigla che risalve e siamo ovviamente qui già una maggior parte del della cosa ve l'ho detta soltanto all'inizio del video però andiamo la sconfezionare ovviamente scusate un po per l'inquadratura un po mezza storta ma il budget è ancora quello quindi sono un po con un budget abbastanza limitato quindi ha abbiato un po di pietà e mi sono dimenticato che nel retro della scatola abbiamo un po di informazioni riguardo alla connettività al modello in cui il numero di modello che abbiamo tra le mani il peso il quantità unità di quante cose ci sono qua dentro un po purtroppo peccato perché la scritta non regge tanto da come si può vedere ovviamente un attimino solo ecco qua che si è un po tutto spianghitito purtroppo è normale per ogni per ogni cosa diciamo in base al prezzo in cui ci andiamo a spendere nella confezione nella confezione ovviamente quando l'apriamo sempre aprila dalla parte superiore mai inferiore come stavo per fare io perché stavo per fa un po un casino e c'è la linguetta ovviamente si tira e ci viene fuori questa basetta io già le ho provate quindi vi posso dare in dettaglio io sono veramente uno preciso nei suoni quindi quello che vi dirò è un dettaglio talmente ma talmente preciso del suono che vi farà pensare più di mille volte prima di andare acquistare questo prodotto la confezione si presenta ovviamente così a primo occhio ci verranno di fronte le cuffiette veramente questo tipo di design che diciamo a sasso ecco rotondato ovale io ovviamente li ho rimessi di nuovo con la plastichina una plastichina come si sa basta fare così più nemmeno strapparla e già va anche una meraviglia quindi se dovete diventerle li trovate già con con questo punto a favore ovviamente sempre sempre ovviamente che vi riteniate all'interno della cifra prestabilita non andate troppo forte perché già sul mercato anche su amazon vi lascio ovviamente il link qui sotto nella descrizione del video e già sono a 25 euro pensavo un po di meno perché ovviamente non offrono proprio tutta una panoramica di quello che uno si può aspettare però comunque stiamo parlando di un prodotto oltre economico allora la basetta come risulta è bella al tatto diciamo opacizzata è molto è un nero opaco non è un neolucido con questa scritta real mi non è in rilievo quindi una normalissima scritta in bianco real mi è plastica molto solida perché al tatto si sente che molto solida un po diciamo con quella fibra ecco quel picco rilievo anti scivolo che ci sta non è un rilievo molto accentuato è tipico di una plastica opacizzata ecco al tatto qui davanti ovviamente abbiamo il led di di carica quando si apre quando si chiude quando si connettono al al telefono e all'interno abbiamo questa colorazione di questo giallo arangiognolo diciamolo così non è un proprio un giallo acceso è un giallo diciamo che da un po nel contesto ci sta perché è bello è molto diciamo custom e sembrano quelle tipo di quel tipo di di ipod io li chiamo ipod ma non sono ipod quindi da quella sensazione di cuffietta molto diciamo anche stile il gaming che uno si vuole aspettare vabbè poteva ci poteva stare meglio verde perché nero e verde è un'abbinazione molto bella anche all'estetico di di gaming però purtroppo siccome se ci mettevano il verde qua dentro andavano contro i black shark comunque sempre con la collaborazione di di xiaomi quindi meglio un po meglio un po evitare con la controparte black shark e ci teniamo con questo bel giallo che a dir vero è bel rappresentativo le colorazioni disponibili qui in italia purtroppo sono il bianco colorazione tutta bianca anche all'interno all'interno ovviamente l'abbiamo grigi con gli auricolari grigi e la colorazione ovviamente nera con interno questo tipo di diciamo giallo arancio con le cuffiette nera tiriamo fuori gli auricolari prendo ovviamente il primo auricolare il primo auricolare ovviamente a quel tipo di bombatura della normalissima serie e le air 3 pro hanno quel classica bombatura opacizzata e coloro opacizzato con questo bordino intorno al al sensore lucido il la copertura ovviamente frontale quella superiore del touch e anche opacizzata come si tengono in mano si tengono molto molto rigidi quindi stanno molto fermi quindi non c'è quel rischio che magari vi scivolano se tenuti da qui se li tenete un po da qui ovviamente un po la presa scappa e vanno via come se nulla fosse al di sotto abbiamo i due contattini ovviamente dorati che vanno quando vanno nella basetta per per andarsi a ricaricare e abbiamo i gommini intercambiabili che adesso andiamo a vedere e e che dirvi qualità costruttiva molto bene si indossano anche abbastanza bene si indossano così ecco qua con l'asticina che va verso verso la bocca e si rimettono nella loro basetta ovviamente rispettando il destro e sinistro così quindi stanno molto fermi quindi non cadono perché sono hanno una calamita molto ben fatta e poi all'interno al di sotto del coperchio andiamo ovviamente a vedere che ci sono le normative la normativa c che sono originali e tutto è una bella cosa al di sotto abbiamo il connettore usb c che da come dichiara la casa madre costruttrice la fabbrica dichiara che è compatibile con la switch charge quindi la ricarica fast la ricarica veloce 2.0 già siamo giunti a una ricarica molto più veloce che va sui quasi 120 watt se non oltre di caricabatterie quindi il mio consiglio personale è non andarle mai a collegarle con i 120 watt perché riscaldano un casino io già ho fatto la prova soltanto due minuti in carica ragazzi cioè si sono caricati velocissimi però ve lo sconsiglio perché è una ricarica troppo pesante troppo veloce quindi io vi consiglio sempre quei 10 watt 5 volts e massimo 2.1 ampere per avere quella ricarica molto omogenea e per avere una durata della batteria diciamo preservare più che altro la batteria al suo interno e fai avere una lunga vita perché se già mettiamo questi tipi di dispositivi che sono mini minuscoli con una batteria molto contenuta vabbè che c'è una tecnologia all'interno che di quella stratosferica anche per quello che costano e pensavo molto ma molto meglio ma purtroppo non poi ci arriveremo mi aspetta un qualcosa di però comunque già con una ricarica abbastanza lentuccia che non supera i 10 watt con i 5 volts e il 2.1 ampere potete stare più che tranquilli che avete anche una durata della batteria al suo interno molto sì sì ci sarà un po' di più a caricarsi ovviamente si parla all'incirca di quasi due ore di ricarica però già sappiamo con certezza che preserviamo la batteria al suo interno a lungo andare se poi volete una ricarica ultra veloce che dure che in 10 secondi vabbè io dico 10 secondi ma saranno 10 minuti in 10 minuti avete già una ricarica ultra piena allora vi affidate a dei caricabatterie che da mio parere vi consiglio di non superare i 65 watt quindi non superate mai i 65 watt 5 volts e massimo i 3 ampere perché noterete già al primo minuto noterete già subito un po' di riscaldamento al di sopra della plastica e quindi andate a rovinare delle cuffie che dal mio punto di vista valgono con qualche criticità a loro un po' diciamo non sfruttati al 100% perché adesso vi parlo molto nel dettaglio allora abbiamo la confezione al di sotto nella confezione al di sotto che cosa abbiamo abbiamo il sacchettino che ovviamente ci sono gli altri due ricambi sarebbero i piccoli e grandi quelli che abbiamo all'interno già nelle cuffie preinstallate sono i medi però se ve lo state a chiedere già avete i ricambi dei gommini per adattarli al vostro apparato uditivo poi abbiamo il cavettino un po misero nemmeno diciamo 10 centimetri circa 15 centimetri me lo aspettavo diciamo un po più lunghetto però sempre bello avere un cavetto compreso nella confezione che richiama all'interno della cuffietta lo stesso colore quel giallo tipico giallo arancione che dal video non sembra sembra di più un giallo ma mi cioè rimaniamo sul giallo guardate rimaniamo sul giallo li mettiamo di nuovo al posto al loro posto qua nella loro bellissima nel loro bellissimo sacchettino in plastica molto rigido e poi abbiamo i due manoletti di istruzioni uno che mi sembra che sia in inglese l'altro è sempre in inglese forse sarà multilingua sì c'è anche l'italiano che ovviamente uno è per la guida e l'altro è per la garanzia mi sembra sì l'altro è la garanzia che sono pure sempre ben ben accettati come diciamo nell'insieme della confezione andiamo a rimetterla di nuovo al posto e parliamo ovviamente di questi di qua questi di qua come si indossano e come si comportano nell'uso quotidiano allora si indossano abbastanza bene come avete visto anche prima non cadono quindi sono progettate in modo da andare a fare sport sono realmente resistenti all'acqua al sudore quindi non c'è quel rischio e magari che ve li dovete togliere durante lo sport o qualche attività e a livello di audio è quello che vi devo andare a parlare un po' dell'audio c'è purtroppo quel tipico riverbero che ritorna in cuffia che cos'è il riverbero magari uno si dice il riverbero che è chitarra no adesso ci andiamo vi spiego un po' con calma perché a me mi piace moltissimo andare su queste specifiche ed è bello anche quanto le aziende si lanciano per portare un prodotto diciamo accessibile alle persone ma almeno mannaggia la miseria datemi qualche opzione in più all'interno dell'app ho provato le altre realme quelle più costose e ho trovato all'interno dell'applicazione oltre che vi dovete registrare quindi l'applicazione per usare queste si chiama realme link vi lascerò anche il link sotto nella descrizione del video nemmeno per andare a scansionare il qr di sopra la confezione subito prima l'accensione quando vi saranno andate a fare il pairing quindi li andate a collegare tramite bluetooth con il telefono quindi ci stanno due secondi per associarli al telefono quindi sono super velocissimi quindi non avete problemi a livello di connettività anche hanno un basso ritardo che veramente nemmeno c'è nemmeno esiste è come se è come avere degli auricolari e con il jack da 3,5 mm e sono bellissimi comunque non hanno un ritardo non hanno nulla sono più indicati per chiamata il la soppressione e la riduzione del rumore ci siamo non è di quelle proprio eccellenti a mille per mille perché si si sente quel tipo quel fastidino sotto voce però che non non vi porta a essere proprio infastiditi cioè riuscite ad avere un dialogo con l'intercutore molto diciamo molto chiaro a livello del suono a livello del suono ragazzi questi si perdono completamente perché perché dopo aver fatto il primo aggiornamento nel se li lasciate così dopo che vi siete registrati all'interno dell'applicazione realmi link se li lasciati così il suono compare piatto assolutamente piatto i bassi sovrastano i alti e i medi quindi c'è troppo soppressione del basso sono un po' diciamo un po' un po' impastato il suono ecco perché si impasta quel basso con i medi e gli alti e non si capisce tanto bene quindi appena alzate un po' troppo il volume non riuscirete più a distinguere i strumenti dal vocale dalla voce del cantante ed è tutto un tutto stropicciare ecco dopo l'aggiornamento è ancora più peggio ancora perché all'interno dell'applicazione ragazzi vi dico che non ho trovato un equalizzatore purtroppo è il punto il punto è punto d'achille di queste cuffie hanno purtroppo questa peculiarità che mannaggia veramente io mi aspettavo tantissimo dal realmi perché veramente cioè ci speravo ci speravo vero perché cioè 25 euro perché poi all'angio non erano 25 ma 35 qualcosa hanno abbassato già 10 euro avrei anche tolto questi 5 dispari mannaggioi le avrei tolto assolutamente perché sono cuffiette da 20 euro non da 25 perché manna almeno 3 canali di equalizzatori non ce li volete mettere all'interno dell'applicazione nemmeno quelli ci sono dei equalizzatori già preinstallati all'interno dell'app che non potete fare altro che selezionare o il bust plus il bust plus che è bust più che quello ve lo sconsiglio assolutamente perché i medi e gli alti vanno a farsi benedire quindi vi trovate soltanto con dei bassi troppo presuntuosi e non vi fanno godere appieno è come che siete all'interno di una macchina con un subwoofer attaccato dietro e gli altri quasi che medi che proprio inesistenti assolutamente equalizzato perché c'è anche l'opzione equalizzato niente da fare ragazzi purtroppo è equalizzato da da escludere perché abbiamo una soppressione del basso diciamo un po' minore però i medi e gli alti rimangono purtroppo soppressi dal basso ad alto volume e vi ritroverete con un suono troppo impastato che non riuscite a distinguere la voce dal strumentale e quindi vi porta ad andare a abbassare il volume poi abbiamo il vivace l'opzione è quella all'ultima a destra il vivace mi sembra che sia è l'unica opzione diciamo tra virgolette perché c'è una laguna ragazzi ma di quelli proprio perché io sono sincero c'è inutile andare a commentare eh ma suono bellissimo ultra incredibile di quello ultrasonico no perché io che sono appassionato almeno del rock lo ammetto c'ho la maglietta del high sliding ma vabbè ma caso a parte mettiamo che mi sono anche ascoltato della musica dance e lo ammetto ma sono andato a ascoltare della musica dance raga non c'è non ci sono non esiste è inutile perché ragazzi io sono sincero e sono belle attenzione non hanno quella criticità di di sì magari quelli che commentano non hanno mai avuto che so un prodotto realme io ho avuto le le altre le xiaomi buds quelle di importazioni nel le le sensual mi sembra che siano sensual non vorrei sparare una cavolata ragazzi scusatemi se dico magari qualche eh fesseria mi sembra che siano quelli perché non trovo nemmeno più la la confezione quindi le ho anche buttate perché hanno avuto una durata di batteria pure troppo minima quelle le ho prese anche in promozione a 15 euro su amazon quindi meno ma ancora meno di queste ma però che avevano diciamo quel dettaglio di musica abbastanza diciamo più equilibrato questo purtroppo sì c'è il diciamo il drive dinamico da 10 millimetri è bello perché si sente che c'è il 10 millimetri perché c'è quel basso che diciamo che non è diciamo bel pesante è troppo corposo non è pesante è corposo l'hanno reso un po' troppo corposo e quindi tenda a sopprimere ecco a mettere un po' all'angolino diciamo così i medi e gli alti che ovviamente si sovrastano con il basso che nel complesso è troppo corposo e poi abbiamo soltanto tre scelte di equalizzare questo tipo di di suono e e poi c'è che non 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 ci sono non ci sono proprio assolutamente non non ci sono io li ho anche posati quindi meglio evitare questo contesto di 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 queste cupie perché non diciamo nel caso mio non sono proprio all'artezza abbiamo soltanto soltanto tre scelte poi c'è il volume migliorato che vi sconsiglio vivamente di attivarlo perché va aumentare di più il volume e non godrete mai appieno del suono di queste cuffiette a chi va a chi va questo questo tipo di dispositivo va alle persone che non pretendono troppo che vanno al risparmio e che non vanno a cercare quel tipo di dettaglio anche sonoro musicale diciamo eccessivo perché con queste di qua potete soltanto ascoltare l'audio a basso volume ma proprio bassissimo volume se non ci capite nulla è per le chiamate perché ovviamente è più indicato per le chiamate è per i gaming perché c'è la modalità gaming che si comporta benone ragazzi io problemi con i gaming non ne ho avute con queste cioè sentite i cambiamenti ambientali che avete attorno a 360 gradi cioè è una cosa che nemmeno nei break shark l'ho trovata questo dettaglio così preciso cioè hanno il potenziale ma purtroppo dalla limitazione che hanno apportato all'interno anche dell'app non gli da quel punto diciamo a favore che mi sarei un po' aspettato mi sarei un po' di più aspettato magari che all'interno dell'applicazione gli avrebbero implementato almeno tre canali tre canali in senso di equalizzatore da regolare in base a delle asticine che potevamo un po' a piacimento regolare in modo da contrastare basso medio e alti ma non c'è nulla ci sono soltanto tre impostazioni che potete scegliere basso appunto lì finisce lì gli indicatori si sono belli perché nell'applicazione con una notifica a pop up vi indica la durata degli auricolari del sinistro la ricarica della basetta dove andate a rimettere gli auricolari si tutto bello ovviamente non c'è nulla da non c'è nulla da negare su questo perché è una cosa bella da vedere ma purtroppo un po' diciamo la criticità di questi auricolari è questo non il mio voto finale diciamo che nel prezzo vi sarei aspettato un qualcosina un po' di meno perché non sono diciamo tanto auricolari da 25 euro mi sarei aspettato a meno auricolari da 20 euro che su quello che offrono oppure diciamo che nel prezzo ci sta sono belli come regalo ovviamente per chi vuole fare un regalino perché si presentano anche bene ma non aspettatevi che siano chissà che tipo di rivoluzione di auricolari perché cioè lasciatemelo dire se volete la perfezione nel suono musicale a parte quello delle chiamate e quello da gaming è assolutamente bellissimo perché è bene calibrato a livello musicale purtroppo non non è il caso di andare poi chi lo sa magari più avanti aggiorneranno l'applicazione più avanti metteranno un altro software da aggiornare perché questi auricolari si aggiornano quindi spero a meno che ci sia un altro upgrade di aggiornamento e non non li lasciano nel dimenticatoio perché sinceramente cioè hanno quel potenziale che deve essere diciamo un pochettino un po' più sfruttato e implementassero un qualcosa di più sull'applicazione perché veramente sono troppo limitati non abbiamo una vasta scelta di equalizzare bene il suono e quindi siamo disposti ovviamente come tutti di andarci a soffrirne di andare a scaricare un'applicazione di terze parti per andare a equalizzarle un po' meglio perché all'interno dell'applicazione ma anche all'interno dell'impostazione del telefono non possiamo fare chissà che miracoli con questi e con questo è tutto e vi ho parlato di questa esperienza che ho voluto prima constatare per almeno per una settimana per capire meglio il prodotto per recensirvelo e spero di portarvi altri contenuti come questo e grazie per aver seguito il video fino alla fine anche se è stato abbastanza lungo e con questo vi mando un grande abbraccio e alla prossima dal vostro Aston Dors ciao ciao